Quagliarella l'ho fatto esordire a 17 anni, era la punta della primavera, aveva buone qualità e aveva buone caratteristiche e sul finale del campionato era giusto, in un campionato difficile, in un campionato particolare, ma era giusto preparare la squadra per l'anno dopo nella serie inferiore. E chiaramente ho cercato di tirare nella squadra i migliori della squadra primavera, tra questi c'era Quagliarella, che era il più giovane, mi ricordo che l'ho miso in campo, non so, forse al sessantesimo, e poi l'ho tolso all'ottantesimo perché ha fatto 20 minuti a rincorrere tutti, era in grave difficoltà di respirazione, l'emozione, l'entusiasmo. Proprio aveva fatto 20 minuti senza il minimo recupero, rischiava veramente di stramazzare in terra. E mi ricordo che l'ottantesimo l'ho tolto per far entrare un altro ragazzo interessante e lui mi diceva, ma come mister Stabnò? Gli ho detto, Quagliarella, non è che stavi bene, è che correvi all'impazzata senza una logica, come è giusto che faccia un ragazzo che trovi la prima squadra. Però tu sai che questa è una prova di fiducia e sai che potresti essere di questa squadra il futuro. È arrivato dopo tanto tempo. E la cosa mi fa piacere perché è un bravo ragazzo.